Confermato anche in appello il quattro probatorio del processo nato dall'operazione antiduoga Univo 99 nella tarda serata di martedì, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, preseduta da Lucia Monaco, ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Giuseppe Ergierino di Gioiosa Ionica, sconto di un anno per Angelo Scuteri, originario di Stignano, condannato a 29 anni, pena rideterminata se hanno il 50 mila euro di multa, infine per Antonio Di Giorgio. Rimane dunque saldo l'impianto accusatorio rappresentato in primo grado dal sostituto procuratore Simona Ferraiolo della DDA Regina e fondato sulle indagini antidroga convenzionalmente denominate Ulivo 99 dal nome dell'account di posta elettronica utilizzati da uno degli indagati. L'operazione è stata condotta dal nucleo operativo radiomobile della compagnia Carabinieri idrocella ionica ed è scaturita dalle dichiarazioni rese nel 2012 da un collaboratore di giustizia che hanno permesso di conseguire importanti elementi probatori in relazione all'esistenza di un sodalizio criminale che sarebbe stato dedito al traffico di sostanze stupefacenti operati a livello internazionale lungo l'asse Bolivia-Olanda-Romania e gioiosa ionica. Dagli esiti investigativi emersero diverse metodologie di occultamento della droga che in alcuni casi era nascosta all'interno di assi di parquet e altri in piccoli spazi all'interno di profilati metallici.